Buongiorno a Amy, buongiorno a Gianluca, buongiorno a Francesca, buongiorno a Zeta e buongiorno a Jay, che siete sempre voi in realtà Anche qui c'è un doppiamento di personalità, no, non spero di no A volte, bene, bene, più spesso di quanto si possa pensare Mi verrebbe da dire, fatevi vedere da uno bravo, ma siete voi quelli bravi Esatto Allora, Amy, ma già vediamo insomma uno stettoscopio, una Zeta con scritto nutrizionista, giusto sotto? Una Jay con scritto medico, insomma, per quei pochi che non sanno che cos'è Amy, cos'è Amy? Beh, Amy è un progetto nato ormai nel 2021 Noi siamo un team multidisciplinare di professionisti della salute Io sono Zeta, come diceva Fabio, nutrizionista Poi c'è qui con me Jay, che è medico, che è da casa I nostri colleghi, ci sono K, sempre medico V, che è assistente sociale E P, che è fisioterapista Quindi è un bel mix Ma è un rebus, cioè se io metto insieme le lettere mi viene fuori qualcosa? Eh, questo dovete aspettare per scoprirlo Non possiamo rivelarti tutto oggi Però ci sarà un... Poi scopriremo perché Cioè, ditemi questo Usciremo con la settimana enigmistica Ah, è Ok, altro che unire i puntini Fare il disegno Per fare il rebus Perché no, a fronte di oggi Jay non è medico Zeta non è per nutrizionista No? Quindi insomma, bisogna capire Chi lo sa? Bisogna capire Bisogna capire Possiamo dirvi che sono i nostri nomi d'arte però Ah, i vostri nomi d'arte Giusto, perché appunto voi siete sui social ormai da un bel po' di tempo No? Avete iniziato... Fine 2021 Fine 2021 Sì Ok, e come è nata questa idea appunto di fare divulgazione? Così possiamo chiamarlo, fare informazione anzi forse ancora di più A noi piace chiamarlo movimento di salute Movimento di salute, ok E appunto perché siamo un team multidisciplinare Quindi veramente abbiamo dentro tante professioni della salute Avevamo pensato appunto di fare questo progetto tutti insieme E allargare lo spazio a tutte le nostre professioni E fare promozione della salute Prevenzione, sì, sì Ma voi vi conoscevate già prima di fare i social? Vi siete conosciuti per l'occasione? Ahimè, sì Ah Ci conoscevamo anche prima Sì, siamo amici, dai Quella in me però Quella in me guardando te Eh, guardia, guarda proprio Non è che ha guardato altri Ci fossero stati gli altri avrebbe guardato anche gli altri Però Purtroppo oggi ha solo me Scherzo, li voglio bene Però sì, ci conosciamo da ben prima di diventare professionisti Lei è quella simpatica del gruppo, giusto? No, ognuno si prende questo appellativo Quindi alla fine mi sa che siamo tutti antipatici in realtà Non mi sembra per niente Non mi sembra per niente Ma voi date proprio dei veri e propri consigli fondamentalmente, no? Ma questi consigli che voi date Nascono, diciamo, dal vostro vissuto Oppure è il pubblico che ve le richiede? È la gente che ve le richiede? Come viene questo processo? Allora qua ti rispondo io che faccio la parte autoriale di questo team di scapestrati Ah, quindi written by Jay Sarebbe così, no? Esattamente Parzialmente, nel senso che le idee arrivano a metà, diciamo, dai miei amici e colleghi Ovviamente seguendo la letteratura scientifica Ogni giorno arrivano spunti nuovi E poi arrivano tante domande anche nei commenti Che devo dire, nei nostri commenti È un bel mix Ci sono commenti che ci chiedono nuovi consigli Però ci sono anche tanti commenti divertenti E comunque Abbiamo toni abbastanza ironici E infatti, devo dire Toni abbastanza ironici Però dite cose appunto scientifiche Nel senso che non è il famoso dottor Google Dove io scopo di avere un brufolino Vado su Google e scopo che in realtà sto morendo da un momento con l'altro E quindi mi alza le ansie e tutto Cioè voi mi date delle vere e proprie Cioè è la scienza che parla Ogni video parte da tanti tanti articoli scientifici Insomma perché infatti Ricordiamo appunto bene Nella vostra squadra abbiamo appunto un medico Che sei tu, un antrizionista Poi gli altri che ruoli hanno, dicevamo? Assistente sociale Un altro medico E un fisioterapista Insomma quindi insomma Un bel pool Una bella equipe di professionisti Rimaniamo quindi a parlare ancora con Amy Perché siamo passando qua con noi questa mattina Per raccontarci questa bella esperienza Ma ovviamente siamo su Cristian Radio Ovviamente c'è la musica E adesso c'è quella di Annalisa con Tsunami Alle 8 e 13 minuti Qui su Cristian Radio Good morning Milano Non cambiate canale Eh Annalisa non lo so se ti amiamo Ma sicuramente amiamo Amy Amiamo quello che fanno Tutti i giorni ci raccontano Delle tantissime cose Che ci danno la possibilità di vivere meglio Com'è che era la Non fate divulgazione ma fate bene Movimento di salute Movimento di salute Questo me lo devo segnare C'erano parole dentro che per me sono difficili Salute Prima movimento Che io leggo al movimento fisico Quindi devo riuscire a metterle insieme No Tanti punti consigli che date sui vostri social Alcuni come diciamo Nascono direttamente da voi Altri nascono dalle richieste che fanno I vostri follower Quindi ci sono delle richieste che vi arrivano A un certo punto Qual è il consiglio che non avreste mai pensato di dare E che invece vi siete dovuti ritrovare a dare Perché forse davate per scontato che non dava dato Ma invece Ce ne sono vari Ok Diciamo recentemente uno molto carino È stato un video che ha fatto circa 7 milioni di visualizzazioni su Instagram Cosa fare se ti puzzano i piedi Bene Quindi siamo molto preoccupati per la popolazione Per i piedi della popolazione italiana Perché c'è un grosso interesse evidentemente attorno all'argomento Allora no mi dai la prossima domanda Che io mi sono sempre chiesto Ma vedendo un po' appunto i reel che fate Le stories che mettete I consigli che date Mi sono chiesto Ma noi siamo più Una città Cioè i milanesi Ma in generale gli italiani che vi seguono Sono più zozzoni Ipocondriaci O semplicemente superficiali Superficiali no No infatti Ok Però c'è un bel mix Ah sì? Sì dai Coltivano l'arte della leggerezza Più che della superficialità Che è un'altra cosa Viviamo sereni Leggeri E poi dopo abbiamo bisogno Siamo italiani Ah A parte latina che viene fuori Sì L'ho capito Ma appunto chi sono i vostri follower? Chi è che vi segue? Chi ci segue? Ci seguono Tante persone Sicuramente interessate A migliorare il loro stile di vita Alla loro salute Tendenzialmente Direi che sono Tante fasce di età diverse Principalmente dai 18 E 34 anni Ma ci seguono anche tanti Diciamo Più grandi E tanti più piccoli Ma perché? Perché la salute Tocca tanti aspetti della vita Quindi inevitabilmente I nostri video Raggiungono diverse Fasce di età Quindi è molto bello Perché c'è una community Molto varia Che magari nel mondo De la comunicazione Non è così usuale È molto eterogeneo Il vostro pubblico Infatti Ma perché vi amano? Perché vi seguono? O anche Invece Voglio sapere anche Perché non vi amano alcuni Magari? Qual è la critica Che magari si muove? Ci dicono Non voglio essere modesta Che siamo molto divertenti Ok Quello sottoscrivo Sottoscrivo Però siamo anche molto ironici Quindi l'ironia Non sempre È proprio colta da tutti Quindi ogni tanto Qualche commento Un po' negativo ci arriva Però possiamo dire Che ogni tanto avete Cioè Ogni tanto vi concentrate Un po' tanto Su quella zona Là sotto Succede spesso Vuoi capire? È un problema vostro Personale Che avete delle fissazioni O è insomma noi Che ve lo chiediamo? Sono sempre gli italiani Ah ok Sì 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 Sono sempre loro Il popolo che ce lo chiede È il popolo Il popolo chiede E noi rispondiamo Ok ok Perché anche lì Comunque fate un lavoro Molto interessante appunto Su tutto il discorso Della sfera sessuale Della sfera anche Dell'intimo diciamo Che viene fatto effettivamente Su tante piattaforme Cioè anzi I medici molto probabilmente Sono anni che cercano di farlo E non ci riescono Voi avete trovato La chiave giusta? Come vi siete Che risposte vi siete dati Nel aver trovato La chiave giusta? Che chiave utilizziamo? Non lo so Per noi La sessualità È una cosa molto Semplice Forse non c'è molto da elaborare A differenza magari di altre realtà Che magari iperrazionalizzano La sessualità Ok Però tendenzialmente Siamo nati Per quello Anche per quello Quindi Sicuramente grazie a quello Quello sì Sono contenuti che ci vengono Molto spontanei Diciamo Ok Sì E poi sdoganiamo Un po' Sti tabù Dai Ma sì Noi vediamo un minuto Praticamente più o meno Un minuto Un minuto e mezzo A volte di Di reel Quanto lavoro c'è dietro A quel minuto e mezzo? Tanta fatica Dell'autore Perché loro Tutti i meriti Lui si prende Com'è sta storia? Sì Lasciamolo parlare Su via Loro mi danno tante idee Però poi di fatto La creazione del contenuto Quasi sempre La faccio io Sì Ci vuole un po' di tempo Eh Immagino Questo fa anche capire Comunque appunto Che c'è tanto lavoro dietro Che non è così Una cosa che Ah bene Dai adesso mi prendo Io mi immagino Chiunque Che adesso dice Allora se lo fa loro Posso fare qui O quello ci vuole Eh invece no Cioè nel senso Serve un lavoro di sintesi E creatività Un mix Questa cosa qui non si studia Cioè nel senso Voi avete studiato medicina Benissimo Bravissimi Benissimo Siete molto probabilmente I più bravi del vostro corso Va bene Ma quella roba lì Non la studi invece Come la impari? Eh sul campo Facendoli Facendoli Iniziamo a avere tanti video Alle spalle Ogni video ci insegna qualcosa Sai il numero preciso Hai tenuto il conto Poi hai perso il conto 718 Quanto sei preparato? Non ha andato a controllare Ha detto il numero a caso Ah ok L'ho capito Io non hai capito Francesco Hai capito Si è visto lontano un miglio Che ha detto il numero a caso Giusto per Invece era molto preciso So come ingannare Z Ci conosciamo bene Infatti 718 c'è la lavorazione 719 In questo momento Si si oggi esce il 719 Andate a vederlo Ecco va bene Comunque Voi date appunto tanti consigli Ma qual è quella cosa Che nonostante tutti sappiamo Comunque continuiamo a farla E voi dite Ma non va fatta Non va fatta Noi continuiamo a farla Il fumo ragazzi Il fumo c'è Basta Non si può sentire più Ah Il vostro è proprio una battaglia Contro il fumo No Non è una battaglia No infatti Non ci piace Però anzi Noi siamo molto Consci delle difficoltà Ok Di smettere O provare a cambiare Alcuni stili di vita Forse smettere di fumare È tra le cose più difficili Che si possa fare Perché ovviamente La nicotina Crea molta dipendenza Una di quelle addiction Difficile da togliere Quindi sicuramente Non giudichiamo nessuno Che fuma Però da un commento Ci hanno detto Che abbiamo rotto Talmente le scatole Che hanno smesso di fumare Questo è stato uno delle Sì 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 Ecco Quindi la persona Sì La sezione commenti Dei video sul fumo È molto È molto bella Sì Perché le persone Effettivamente Raccontano le loro storie Tanti dicono Ma se cosa Magari oggi smetto Sì Si supportano a vicenda Anche dai Smetto O anche ridurre È una strategia Può essere Bisogna smettere E voi date vari consigli Anche su come smettere O solo su quanto Mi fa male fumare Soprattutto su come smettere Ah bene Niente terrorismo Ma un accompagnamento Diciamo Quanto fa male fumare Pensiamo che le persone Si sappiano Come farlo È molto difficile È molto più difficile Ok Come potremmo Un consiglio veloce Così ce l'abbiamo Ci sono Ognuno Deve trovare La sua strategia Ah Vedi Quindi non è una cosa Il problema è questo Non ci sono le ricette Perché è più facile dire Ti insegno a fare una torta Ti ho la ricetta La torta Le fate finita Come faccio Smettere di fumare In questo caso O smettere magari Di avere altre addiction È molto più complicato Perché appunto Ognuno di noi Bisogna trovare Degli interlocutori Competenti Due tipi di interlocutori I tuoi conoscenti Amici Per supporto Diciamo emotivo Day by day Ma vale anche la pena Confrontarsi con Dei professionisti Degli esperti Ci sono anche Dei device Dei strumenti Medici Sanitari Che si possono usare Ah bene bene Allora continuiamo a parlarne Dopo un po' di musica Adesso è il momento Di Negramaro E poi torniamo qui appunto In diretta con Amy Alle 8 e 25 minuti Su Crystal Radio Questa è Good Morning Milano Poi vi ricordo che potete Ritrovare tutto quanto Su goodmorning.milano.it I comacose con Malavita Alle 8 e 33 minuti Crystal Radio Good Morning Milano Malavita Invece noi cerchiamo Di fare bene vita Nel senso che cerchiamo appunto Di stare meglio Di stare bene In forma Di cercare di ammalarci Meno possibile Anzi di cercare Insomma di vivere In questo movimento Del benessere Giusto Francesco Di saluto Di saluto Non ce la farò mai Non ce la faccio oggi Adesso me lo segno Così meno dopo Non lo dico giusto Siamo qui con Amy Siamo qui insieme a Francesca E Gianluca Che stanno un po' raccontando La loro esperienza Molto interessante Che potete ritrovare Praticamente ovunque Siete sui social Instagram TikTok E Youtube Instagram TikTok E Youtube Vi trovate Consigli davvero Davvero interessanti Che vi Posso dire Vi svoltano la giornata A volte Adesso gli dici Ma vedi te Ma guarda te Sai su quei video Che quando guardi Mandi all'amico Subito Hai visto che avevo ragione Perché magari gliel'avevi detto Una volta Oppure Ma pensa te Abbiamo sempre sbagliato Abbiamo sempre fatto così E quindi Eh sì Li condividono tanto E quello Funziona perché Quello lì è il consiglio Oppure lo mandi alla mamma Dicendo Vedi Ecco Non lo facevi così Invece Di tutti i generi Perché appunto Parlevamo di alimentazione Parlavamo di benessere Sessuale Avete toccato praticamente tutto Cosa che non avete ancora toccato Niente Ci siamo dimenticati qualcosa No Cerchiamo di coprirla A 360 gradi La salute Tutto quanto I filoni più Quello del fumo Mi ha capito Ad esempio Un filone molto seguito Altri filoni molto seguiti Quali sono? Beh come fare la cacca Ah Bene Allora Questa è l'ora Tra parentesi Perché vi do questa notizia Molti ci ascoltano In quell'istante Cioè vi do questa notizia Molti la mattina Ci sviluppano e ascoltano Good morning Milano Proprio in quell'istante Quindi io sono Molto fiero di far parte Della routine mattutina Anche in quell'istante Loro si aiutano Forse ascoltando me Invece Quali possono essere Gli altri consigli Per farla bene Non so Le fibre Un grande classico Tutta verdura Cereali integrali Movimento Questo se lo scordano In tanti Il movimento È molto utile Ma questo Viene detto movimento Perché poi Quello che io non capisco Voi ci dite Come fare movimento Poi siamo tutti iscritti Alla palestra Poi c'è un altro discorso Di quali iscritti Alla palestra Che non ci vanno Ma quello è un altro capitolo Va bene Ma com'è che non ci viene A fare movimento Cioè in realtà Non dovrebbe essere Automatico Normale Per noi altri Probabilmente bisogna trovare Un movimento Che ci piace Esatto Non interpretatemi male No È un movimento sportivo Una palestra Di movimento lento La famosa canzone È un movimento lento Anche quello Tutto sommato Può aiutare Però sì Deve piacerci Esatto Trovare qualcosa Di accattivante Magari una forma Più giocosa Tennis Basket Ballo Caraibico Ballo caraibico Bello Zumba Zumba La colitta Facciamo anche balli di gruppo In realtà D'estate Adesso poi chiudiamo La pagina per due mesi E andiamo Amy Summer Ci si deve divertire Perché se no Già Quello voi lo fate Sembra Mi sembra Cioè voi veramente Ma no Io non ci credo Ci sarà una volta Che avete detto Ma no Perché devo farla Ma già Ci dovrebbe essere P con noi Esatto Questo dovremmo chiederlo a P Perché c'è quello del gruppo Che ogni tanto No Solo una volta Solo una volta No no So che non bisogna Allora Pi Pi So che magari ci stai ascoltando Ci stai guardando Chiediamo scusa Stiamo parlando Senza te presente Ma sono molto curioso Quindi ditemi Quando è stato Quando c'è stato un temporale Una volta Non solo esterno Ma anche interno Diciamo Forse stavamo Forse dal lato autoriale Avevo esagerato Avevo preparato un po' troppi video Da fare in In tre ore circa E quindi c'è stato Un tumulto Sì Però col senno di poi È stato divertente Anche quello Ah È servito anche quello Sì Per unire il gruppo Sul movimento All'inizio Mi sono andato un po' indietro Mi hanno fatto quella cosa Che si va indietro Mettere il like In un fondo Per far vedere Quando tu conosci una ragazza Vai indietro Per far mettere il like Su un post di tre anni fa Per fargli capire che è Visto che ti seguo bene In realtà è quella che si spaventa Dice Oddio c'è uno stalker Che mi segue Noi abbiamo fatto così Con il vostro profilo Siamo andati indietro Abbiamo visto che avete fatto Anche tanti video all'inizio Proprio dove di movimento Si parlava E si parlava anche Di movimento alternativo Nel traffico milanese Ad esempio Dell'utilizzare dei mezzi Piuttosto che degli altri Cioè di dire Andate a piedi Usate la bicicletta Sì sì Questo è molto importante È un tema che ci sta molto a cuore Quindi anche la salute ambientale Voi siete di Milano Siete cresciute in Milano Adesso so che poi Vi sono state prendendo strade Gravitiamo su Milano Intorno a Milano Sì sì Se dovessimo paragonare Il traffico di Milano A una malattia A un virus Quale potrebbe essere? Ma Palese Su due piedi Mi viene da dire Forse l'analogia più Calzante Potrebbe essere Una terosclerosi Visto che siamo sempre Sì Non so se Diciamo cos'è Spettiamola bene Sì va Terosclerosi Molto simpaticamente È un'ostruzione Delle arterie Ok Quindi se vogliamo vedere Le vie di Milano Come delle arterie Più macchine ci sono Ci sta Ci sta Più queste si Impacchettano Piazza Napoli È un'ostruzione pazzesca Dicevo L'altro che bypass Sì Possiamo Facciamo che Magari le macchine Le facciamo diventare Le cellule Che dovrebbero andare Da qualche parte Proprio ai lati Ci sono I lavori Le macchine parcheggiate Il sugo è del papi Voi siete simpatici Simpatici Ma siete anche Bastardelli Non risparmete nessuno Beh non ci risparmiamo Neanche noi stessi Ok Dillo Dillo Cosa mi guardi così Dillo Gianluca No mi taccio No Gianluca Non puoi Non puoi Prossima volta Per chi Stava guardando in video Vi assicuro che la faccia Diceva tutto Quindi Ritrova ancora Continua Francesco io avrei paura Ma tu Sei sicura Di continuare Questa esperienza Qua c'è un porto sicuro Se vuoi Grazie Vi ringrazio Diamo asilo politico Qua Senza problemi Tutte le motivazioni Le stiamo vedendo Quindi ci mancherebbe Dicevamo appunto Che appunto Ho guardato intorno a Milano Milano è una grande città Milano Avete dato dei consigli Appunto dicevi E' importante anche Il benessere ambientale Eh ma In una città come Milano Non è facile Beh ma vale la pena provarci Quindi comunque Spingere a prendere I mezzi pubblici Spingere ad usare La bicicletta Ci sono tante alternative Non essere bloccati Nel traffico Poi sembra folle Forse è la città Perfetta Per provare a fare Degli esperimenti Perché Perché ti dici Questo è interessante Dimmi tu Per la sua Diciamo Geografia E E' molto piatta Milano E non è così grande Come Come pensiamo Rispetto ad altre città Eh sì Quello stesso Diciamo che E' una delle metropoli Più piccole al mondo Forse Effettivamente Ma allora Abbiamo detto Che quindi Il traffico milanese E' l'anteriore sclerosi Diciamo più o meno Se invece Dovessimo paragonare Dei luoghi Di Milano A degli organi Del nostro corpo Ad esempio Parco Sempione Cosa potrebbe essere Banale Un polmoncino Eh sì dai Piccolino Ho iniziato a posto con questo Poi sapevo che sarei stato Sul polmone Ed era facile City live City live Questa è più difficile City live Cos'è? L'occhio L'occhio Ah l'occhio Tipo Sauron Ah tipo l'occhio L'occhio dei signori anelli Poi vi preoccupate di me Mi dice sempre Che sono la più cattiva Quindi qui c'è Sauron Che capiamo benissimo Essere una coppia Che adesso non c'è più Che guarda la città di Milano Più o meno Quella no L'idea era quella No Ah no no L'ho interpretato male io No assolutamente No 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 Era City live in sé Era più l'occhio del cash Penso che dicesse Sì 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 Intendevo quello Quello che decide Dove allocare le risorse Ah vedi No non ci permetteremo mai Non le master of puppets Diciamo ok Esatto Il duomo Il cuore Il cuore Il cuore Ah vedi 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 Via Bernabò Visconti C'è la nostra via Cosa potrebbe essere invece Un piccolo cieco No L'appendicite Esatto Mi hai letto in attenzione Elisa vai fuori a cambiare il cartello Sotto Bernabò Visconti Che tra parentesi è un mezzo criminale della famiglia Visconti Mettiamo sotto appendicite proprio Neanche appendicite Cioè proprio La malattia Siamo già in peritonite Tra parentesi In peritonite metti sotto Capito Sei preparatissimo Sì perché Così Un momento così Da bambino sono stato ricoverato Per un'appendicite in peritonite Quando poi hanno scoperto che non era niente È vero Quindi sono rimasto una settimana In ospedale per niente E è stata una delle esperienze più belle della mia vita Perché c'era il fortino del Playboy Del Playboy Scusate Del Playmobile Che ospedale sei stato? Piccolo lapsus Piccolo lapsus Volevo dire il Playmobile E io volevo portarmelo a casa Anni dopo Forse mi sono portato a casa il Playboy Ecco perché avevo sbagliato Forse per quello Forse per quello Ma no E quindi insomma sì Chi è che ho qua? Mi scrivono Mi scrivono che E consigli sulla dissenteria Mi chiedono via Whatsapp appunto Ma credo che Li abbiamo già Mi sa che ne trovano Quale è meglio prevenirla? E li trovano tra l'altro Sì Se scorrete tra i nostri video C'è sicuro qualcosa Eh infatti perché appunto Adesso al 3317853555 Ci hanno proprio chiesto appunto Un consiglio Non lo vuoi capire E così Per dette liquidi ecco Per la dissenteria Quindi bisogna bere Tanto tanto E quindi quando prima diciamo I consigli sul come fare la cacca Anche come evitare di farne troppa Cioè nel senso Esatto La giusta misura La giusta misura Andiamo ancora con un po' di musica E poi torniamo per salutarci Perché siamo quasi in conclusione Adesso è il momento degli Abba Con SOS Appunto diciamo che insomma Voi siete il nostro SOS quotidiano Nel caso appunto Ci siano un po' di dubbi 718 vite Vi hanno detto più o meno Quindi insomma Libro di trovare Tutti i consigli Sui profili social Di Amy E gli Abba con SOS Alle 8.46 minuti Siamo quasi in chiusura Prima di salutarci Però appunto Volevo capire un po' Con Amy Con Francesca e Gianluca Quali sono anche i prossimi passi Next step Se fossete cantanti Vi direi il prossimo album Quando è in cantiere Esce a ottobre Canta Z Ah Z Tu canti? Sotto la doccia La doccia non ce l'abbiamo Facci sentire No 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 Non ti chiedo di cantare Non ti voglio mettere in imbarazzo Uno dei prossimi reel Però dici qual è la canzone Al momento Che canta Z Sotto la doccia Cioè qual è la hit La hit Che più Il tuo cavallo Il tuo cavallo Perché guardi Dopo che abbiamo fatto un reel Sesso e samba Sesso e samba Sesso e samba Sesso e samba Io faccio l'altro Com'è che si chiama Tony Tony Però sono una rocchettare Diciamo Quindi siamo più sugli CDC E quelle robe Assolutamente Perfetto Perfetto Anche io abbastanza Però ne vale la pena Benissimo Benissimo Dicevamo però appunto Next step Prossimi passi Cosa bolla in pentola Cosa bolla nei social E da settembre Se ce la facciamo Settembre Ottobre Non trattenete il respiro Potremmo vederne delle belle Stiamo cercando uno spazio nuovo Uno spazio nuovo Bene 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 Non voglio indagare oltre Non voglio sapere oltre Voi tornerete qua A raccontarci di questo spazio Volentieri Vi aspettiamo Quando ci raccontrete Di questo spazio Dateci però Prima di salutarci Tutte le coordinate Per quelli che appunto Ci hanno seguito Questa mattina Qui su Good Morning Milano Per seguire invece Amy E per godervi Godere al meglio Del vostro lavoro Seguite Amy Su Instagram Youtube E TikTok Scrivendo Amy Con l'H H H E I M Punto Salute Prevenzione Ok Voi uscite praticamente Tutti i giorni Quante volte a settimana Tutti i giorni no Cinque video a settimana Più o meno Poi dipende un po' Cinque video a settimana Ragazzi ma che fatica Vi posso dire Ci divertiamo Esatto Solo per dire la stessa cosa Infatti la domanda Che vi lascio Che io rubo sempre La mia collega Nei versetti Di Maccherazza di Umani Vi chiedo Ma chi ve lo fa fare? Eh Chi ce lo fa fare? Ci divertiamo Dai Ce lo facciamo fare A vicenda E c'è una missione sotto Ah Che ancora non svegliamo Che ancora non possiamo dire Ah quindi C'è una missione Diciamo segreta Al momento Una mission Un grande disegno Un grande disegno Che prima o poi Magari unendo le lettere Riusciamo a capire Visto che ho fatto Bravo Sono giornalista Si vede Si vede Grazie mille Francesca Grazie mille Gianluca Salutiamo anche gli altri Saluto agli altri Che sono a casa Le altre lettere Dell'alfabeto Amy Salutali tu Francesca Ciao a tutti ragazzi A presto Ciao Sono cattivi anche tra di loro È pazzesca questa cosa È pazzesca Che sono divertenti Ma soprattutto Ricordiamo la cosa interessante È che sono utili È questa la cosa bella Cioè Questi benedetti social Che tanto Distrattiamo Che tanto raccontiamo Essere pieni di cose inutili Ed è vero Perché dei gattini Non ne posso più O di trenini Io vedo i trenini Ad esempio Pensate voi come sto messo Ma in realtà Poi in tutto questo C'è tanta tanta altra roba Molto molto interessante E utile Come ad esempio In questo caso Amy Quindi grazie davvero A entrambi E un saluto anche Grazie a te Grazie dell'invito Grazie Grazie mille Andiamo avanti con la musica Adesso è il momento di Madonna Con Hang Up